In Campania, come è ormai noto, le scuole riapriranno in ritardo rispetto al resto del paese. Mentre in Italia gli studenti sono tornati in classe già lo scorso 14 settembre, in molti comuni campani il suono della campanella sarà posticipato. Attore del Greco, il sindaco Giovanni Palomba, nella giornata di ieri, ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale si dispone il posticipo dell'avvio delle attività didattiche al 1 ottobre. Abbiamo cercato di accogliere nel modo più opportuno le richieste che da più fronti ci sono giunte dal mondo della scuola. È un anno particolare per le evidenti e già note vicende legate alla crisi del coronavirus, ma tanti sono stati gli sforzi messi in campo, dalle istituzioni locali e dagli enti territoriali, per consentire un'efficiente ripresa delle attività per il nuovo anno scolastico, ha fermato il primo cittadino. Noi siamo in un momento ormai da marzo dove nessuno ha la bacchetta magica e più si è tranquilli nel fare cose e meglio è. Nessuno sa bene, anche perché i casi, ieri ce ne sono stati altri, sono asintomatici, ma il problema sussiste. Mi veniva anche chiesto da vari dirigenti, sindaco, cerchiamo di essere tranquilli nel fare le cose. Anche tanti altri comuni hanno predisposto la stessa ordinanza, quindi non sono i 4-5 giorni in più o in meno per quanto riguarda la scuola. Io dico con molta calma, tranquillità ai genitori, a tutti quanti, dobbiamo far ripartire le scuole perché i nostri ragazzi non possono perdere quella che è l'istruzione che è fondamentale. Far sì che invece del 24, le aprissimo il giorno 1, poco o nulla cambia. Almeno abbiamo fatto quello che ci veniva chiesto, di non correre e di fare le cose per bene. Stiamo sotturando anche che tutti i presti scolastici, quello che hanno chiesto lo stiamo dando. Poi stanno arrivando anche i banchi perché c'era anche questa problematica dei banchi, nello stesso tempo quando arrivano i banchi bisogna prendere le suppellettili esistenti, bisogna togliere. C'è tutto ancora un lavoro che si sta avvicinando all'interno delle scuole. Quindi uniamo un po' tutte queste cose e io mi sono sentito io di fare questa ordinanza di apertura delle scuole il primo ottobre. Riapertura rinviata anche a Torre Annunziata. Dopo gli otto contagi nella giornata di ieri, il sindaco ha deciso di posticipare a lunedì 28 settembre l'inizio del nuovo anno scolastico. Importante è un intervento accurato di sanificazione degli edifici scolastici dopo le lezioni al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in totale sicurezza per studenti, docenti e personale, ha dichiarato il sindaco Ascione. Anche a Castellammare la prima campanella nelle scuole suonerà il primo ottobre. La decisione del sindaco Cimmino nasce dopo l'impennata dei contagi da Covid-19. È una mia assoluta priorità garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, degli studenti e di tutto il personale scolastico che si appresta ad iniziare le attività didattiche in questo momento così delicato per tutto il paese. Le parole del primo cittadino. Dopo le ordinanze dei vari comuni campani che hanno posticipato l'apertura delle scuole al primo ottobre, anche i sindaci di Scafati e Bosco Reale, si sono aggregati a tale scelta.